bentornati amici cattolici come diceva il buon mao la rivoluzione non è mai un pranzo di gala e questo vale anche per i telefilm quindi parliamo oggi di una serie che ha letteralmente rotto gli schemi della borghesia americana aiutando enormemente a modificare il concetto di donna e del suo posto nella società e lo ha fatto usando la comicità e la leggerezza se volete sapere tutto quello che c'è da sapere su mary tyler moore non dovete far altro che aspettare che finisca la sigla siamo nel 1966 mary tyler moore è pronta a fare il salto di qualità come coprotagonista di the dick van dyke show dove aveva interpretato laura petrie era all'apice della sua popolarità la universal picture gli aveva offerto addirittura un contratto per tre film quindi era lanciatissima nel mondo delle sale cinematografiche le cose però non andarono come lei si aspettava il primo film recitato a fianco di julie andrews fu un buon successo sia di pubblico che di critica gli altri due usciti in rapida successione ovvero per un colpo di donna e una meravigliosa realtà invece furono dei flop pazzeschi dopo queste due delusioni nel 1969 la cbs gli offre di fare una reunion del cast del telefilm che l'aveva resa famosa lo speciale intitolato dick van dyke and other woman si basava sull'idea dello stesso van dyke che spesso sentiva voci sul fatto che lui attorniata bellissime donne era inevitabilmente portato a tradire la moglie lo show che come avrete capito aveva un taglio decisamente ironico ebbe un grandissimo successo ma ciò che stupì i dirigenti della rete fu l'enorme gradimento che mary tyler moore ottenne nei gruppi di studio con dati così interessanti in mano fu inevitabile che la cbs offrisse all'attrice un contratto che non poteva rifiutare un contratto che le permetteva di realizzare una sitcom scritta e pensata su misura per lei per farsi aiutare quindi l'attrice chiama due autori di notevole talento james brooke e alan burns l'idea iniziale è quella di raccontare le avventure di una trentenne vedova che si trasferisce a minneapolis per iniziare una nuova vita l'idea della vedova però viene subito scartata la vedovanza avrebbe incubito il tono della serie che i tre volevano fosse assolutamente leggero così si optò per una divorziata la risposta della cbs però non fu buona la rete aveva fatto delle ricerche con dei gruppi di ascolto ed era venuto fuori un dato estremamente curioso la maggior parte delle persone prese come campione non riuscivano a comprendere che mary richards il suo personaggio non era la stessa persona di laura patrie ovvero il personaggio interpretato in dick van dyke show per gli spettatori le due erano la stessa cosa e fatto che avesse divorziato dal suo marito telefilmico era una colpa negli anni 70 imperdonabile ecco questa è la dimostrazione che molti dei personaggi bizzardi che oggi popolano i social esistevano già allora solo che al tempo a saperlo erano solo gli esperti di marketing a dirlo tutta lo stesso studio evidenziava che i gruppi d'ascolto non vedevano di buon occhio gli ebrei gli uomini con i baffi e anche in generale tutti i new yorkesi cosa questa che rafforza la tesi che ho espresso sopra nonostante le premesse i tre tirarono dritto o quasi resero mary non più divorziata ma vittima della rottura di un fidanzamento ufficiale in modo da ammorbidire la sua posizione ma per il resto lasciarono più o meno le cose come stavano e vi assicuro fu una scelta coraggiosissima nel 1970 a rendere protagonista di un telefilm una donna felicemente single di 30 anni che è realizzata nel lavoro e che non pensa affatto a doversi sposare in tutta fretta era camminare in un terreno mai battuto prima per addentrarsi in questa nuova terra tutta da scoprire si fecero aiutare da un team di sceneggiatori scelti in maniera del tutto anche questo rivoluzionario ovviamente per l'epoca su una squadra di 75 sceneggiatori ben 25 erano donne se la cosa non vi sembra un granché beh lasciate che vi contestualizzi la situazione nel 1970 la wright's guide ovvero il sindacato degli sceneggiatori contava circa 3000 iscritti di quei 3000 volete sapere quanti ne erano donne beh meno di 500 ovvero meno di un sesto capite quindi quanto in là si stavano spingendo i produttori della sitcom perfino nell'approccio ai costumi decisero di rischiare provando anche in questo caso un approccio mai provato prima la costumista leslie hall invece di creare gli abiti per il set fece un patto con la revlon che acconsentì a donare alla serie tutti i vestiti dalla loro linea per grandi magazzini ovvero la evan piccone per la prima volta nella storia della televisione i personaggi indossano vestiti che qualunque spettatore poteva trovare in un qualsiasi negozio mediamente fornito quello che venne fuori dalla stesura dei copioni fu quindi una serie di personaggi molto originali ma al contempo difficili da gestire e che necessitavano di attori capaci di farli camminare su quel sottile filo che da una parte non li rende macchiette esagerate ma dall'altra li rende abbastanza simpatici per far sì che il pubblico si affezioni a loro per la migliore amica della protagonista la traccia per il personaggio recitava più o meno così una perdente che si è fatta da sé leggermente in sovrappeso con il trucco marcato ed estremamente ironica dopo aver provinato decine di attrici per la parte i produttori si ritrovarono con un bel problema tra le mani però avevano trovato l'attrice perfetta ma era troppo bella per poter fare da spalla alla protagonista l'attrice in questione ovvero valerie harper in effetti era veramente bella e nemmeno con l'aiuto della costumista che selezionò per lei una serie di vestiti scelti con il solo scopo di mortificarne le forme si riuscì a contenere il suo fascino così i produttori fecero quello che si sol dire negli stati uniti ovvero se la vita ti offre limoni beh o fatti delle limonate e valerie harper in tutto il suo splendore entrò a far parte del cast ovviamente adattarono il personaggio all'attrice e roda divenne la tipica bella che non sa di esserlo anche un altro personaggio dovette essere modificato in corso di casting ovvero ted baxter conduttore vanesio e superfegiale che nella prima scrittura doveva avere una liaison con mary ma jack cassidy attore a cui avevano pensato i produttori per la parte rifiutò il ruolo veniva già da un ruolo molto simile nella sitcom he and she e non voleva trovarsi ad essere legato per la vita a un unico tipo di personaggio allora la produzione chiese a lyle wagner che sicuramente ricorderete per il suo ruolo in steve trevor in wonder woman di accettare la parte ma anche lui però rifiutò faceva parte del cast del carol barnard show e lasciare una serie di successo per un esordiente non lo entusiasmava uno dei produttori david davis durante uno spettacolo a broadway vide ted knight e lo trovò perfetto l'unico problema è che non era il bello e aitante conduttore che gli autori avevano pensato era sì un uomo elegante e di bell'aspetto ma ormai sulla sessantina al provino ted knight che non è che navigasse nei dollari si presentò vestito di un elegantissimo blazer blu acquistato con i soldi dell'affitto e diede spettacolo calcò moltissimo le caratteristiche del personaggio rendendolo ancora più estremo di quello pensato dai produttori eppure riuscì anche a renderlo fragile e vulnerabile tanto da rendere impossibile a chiunque odiarlo ovviamente il fatto di essere molto più anziano di mary rese impossibile esplorare un'eventuale storia d'amore tra i due i produttori decisero di girare due volte la puntata pilota una prima volta il martedì invitando in studio un certo numero di spettatori ad assistere allo spettacolo e una seconda volta dopo aver visto la reazione del pubblico e fatti i dovuti aggiustamenti la seconda registrazione sarebbe avvenuta il venerdì beh se siete curiosi di sapere come andò il debutto del martedì ve lo dico subito fu un vero disastro il pubblico rimase muto e non rise a nessuna delle battute e alcuni addirittura se ne andarono prima ancora della fine della registrazione l'ennesimo studio rivelò che da una parte gli spettatori ancora assoggiavano mary tyler moore al suo vecchio personaggio ma soprattutto ciò che li disturbava era vedere tutte quelle donne che non aderivano allo stereotipo a cui erano abituati la più respingente di tutte era ovviamente ruota come vi diciamo all'inizio le rivoluzioni non sono pranzi di gala e ci vogliono persone con le spalle veramente larghe perché arrivino a compimento fortunatamente la serie aveva un piccolo esercito di sceneggatori capitanati da major mullen che le spalle le avevano enormi quindi fatte tutte le dovute modifiche una delle quali consisteva nel far dire a bass che sia roda era davvero molto divertente in modo da rendere meno respingente il personaggio ci si presentò alla registrazione del venerdì che andò questa volta alla grande risate arrivarono quando dovevano arrivare il pubblico rimase in sala fino alla file quando però la serie andò in onda la risposta della critica fu comunque ferocissima il new york times apostrofò la serie come assurda tv guide disse che mary tyler moore era una zitella frustrata e che roda era una mangiatrice di uomini e queste che vi riporto sono quelle favorevoli il pubblico però fortunatamente non seguì la critica e gli ascolti furono altissimi sin da subito l'impatto della serie culturalmente fu immenso fu un momento di rottura e generò un cambio di percezione rispetto alla condizione femminile così netto da rappresentare una vera e propria rivoluzione c'è da dire a onor del vero che prima di mary tyler moore un'altra sitcom aveva osato sfidare i luoghi comuni sulla donna una serie del 1966 intitolata that girl che raccontava le vicissitudini di un'aspirante attrice new york mary tyler moore in un'intervista ha dichiarato che anne mary la protagonista di that girl ha aperto la porta e mary richards beh l'ha sfondata ma come abbiamo ripetuto diverse volte le rivoluzioni non sono pranzi di gala e la pressione sull'attrice da parte della critica divenne così pesante da farle prendere in considerazione seriamente l'idea di abbandonare la serie rimase solo perché james brooke e alan barnes gli dissero che il telefilm era un'opera unica di cui loro avevano già scritto il finale e il suo abbandono avrebbe rovinato irrimediabilmente il progetto ed era la verità dopo sette stagioni con gli ascolti ancora altissimi venne trasmessa la puntata finale puntata finale che riannodava tutti i nodi e finiva con una chiamata alla ribalta di tutto il cast come se fosse stato uno spettacolo teatrale il successo non si esauri però con la serie ben tre spin off e tutti di grandissimo successo nacquero dalle generi di mary tyler moore roda phyllis e luke rand e ora come di consueto alcune curiosità sulla serie quando valerie harper lasciò la show per debuttare come protagonista in roda i più contenti di tutti furono gli attori maschi della serie non perché la harper fosse un personaggio difficile al contrario era una delle persone più dolci del cast ma perché l'enorme popolarità che il personaggio aveva ottenuto nel telefilm finiva per rubare spazio e scene al resto del cast una delle svolte pianificate dagli scenedori per l'ultima per l'ultima stagione consisteva nel far scoppiare l'amore tra mary tyler moore e luke rand la cosa però non avvenne perché mary tyler moore bocciò l'idea anche se gli sceneggiatori avevano già scritto diversi episodi per introdurre la cosa e infatti se ne trova ancora una traccia in mary dates lu penultimo episodio della serie nell'episodio the seminar compare betty ford ed è la prima first lady ad apparire in un telefilm in alcuni episodi particolarmente divertenti è possibile sentire la risata del tutto peculiare di james brooke che si distingue dal resto delle risate del pubblico ed ashner ha vinto lemmy howard come miglior attore non protagonista per una serie comica per la sua interpretazione il di luke rand in the mary tyler moore ha anche però vinto il premio come miglior attore protagonista per una serie drammatica per aver interpretato il luogo proprio di luke rand in luke rand ashner quindi è l'unico attore che ha vinto entrambi i premi per aver interpretato lo stesso personaggio in due categorie diverse nella puntata della terza stagione my brother's keeper viene per la prima volta introdotta in un serie all'americano la parola gay il piano in cui si trovano gli uffici della vjm tv ovvero la tv per cui lavora mary tyler è molto dubbio nella prima stagione si dice che al dodicesimo piano nella quarta si afferma che al diciottesimo piano nella quinta lo si colloca al venticinquesimo piano anche per questa volta è tutto se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina in modo da non perdervi i prossimi se volete aiutarmi a migliorare le attrezzature per realizzare il video potete farlo abbonandovi e in cambio tra le altre cose avrete la possibilità di scegliere insieme a me gli argomenti del prossimo video per il resto come sempre se volete che parli del vostro telefilm preferito beh vi basta scrivermelo nei commenti